Si è tenuta presso l'Aula del Consiglio regionale della Puglia la cerimonia conclusiva di Building a Puglia, la rassegna promossa dal Servizio Biblioteca del Consiglio regionale pugliese, giunta alla dodicesima edizione. Nell'occasione sono state premiate le migliori recensioni dei volumi presentati durante l'anno, redatte dagli studenti degli istituti superiori che hanno seguito l'iniziativa. Siamo alla dodicesima edizione. È una rassegna che è andata increscendo in questi dodici anni. Quest'anno abbiamo presentato 19 volumi. Tra l'altro io noto proprio l'interesse dei ragazzi. Oggi si dice che i ragazzi leggono poco. È vero. I ragazzi non leggono tanto. Però quando vengono stimolati nel modo giusto io vedo che l'interesse dei ragazzi è tanto perché i nostri giovani sono in gambissima. Io ho letto le recensioni di quest'anno e sono veramente contenta. Fino a qualche anno fa, ma anche l'anno scorso, più che recensioni facevano il riassunto dei libri letti. Invece lo spirito critico dei ragazzi di quest'anno mi ha veramente colpita. Durante la cerimonia è stato presentato il volume Inchiostro di Puglia, raccolta di 35 racconti diversi nel genere, nel respiro, nel passo, che percorrono la Puglia a bordo di un tre ruote offrendo una lettura veloce che passa dal noir al verismo, dalla docu-fiction alla commedia. Un'antologia pubblicata da Caracò, firmata da autori pugliesi del panorama nazionale, che raccontano la propria terra senza risparmiare nessuna emozione al lettore. Un volume di racconti collettaneo che cerca di raccontare la Puglia dedicando ciascun racconto a un luogo della Puglia, quindi in un ipotetico viaggio attraverso la nostra regione in cui il lettore può fermarsi in vari luoghi della Puglia, con vari autori, con vari generi, vari stili, varie storie. Sì, è un bellissimo progetto, una sorta di mappatura sentimentale dei nostri territori. Adesso che abbiamo capito che il territorio non va soltanto abitato, coltivato, ma può diventare una risorsa, va anche raccontato. Abbiamo provato, insieme agli altri 34 autori, a raccontare i nostri luoghi dell'anima. Nell'ambito della rassegna è stato consegnato inoltre il premio Building a Puglia per gli iscrittori emergenti, concorso riservato ai giovani autori pugliesi, indetto con l'obiettivo di promuovere ai giovani autori under 30 di romanzi e saggi inediti.